Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. È davvero desiderabile. Me ne accorgo particolarmente ogni settimana o due, quando voglio dare alle stampe qualcosa che la discrezione mi direbbe di non pubblicare. A volte i miei sentimenti sono così violenti che devo prendere la penna e riversarli sulla carta per impedire che il loro fuoco si rossumi dentro di me. Ma tutto quell'inchiostro e quella fatica vanno sprecati perché non posso pubblicare quello che scrivo. Ho appena finito un articolo di questo genere e ne sono molto soddisfatto. Fa bene alla mia anima tormentata leggerlo e considerare i problemi che creerebbe a me e alla mia famiglia. Lo lascerò ai posteri e lo renderò noto dalla bomba. Lì c'è la libertà di parola e non si può far danno alla famiglia. Mark Twain, il privilegio dei morti, 1905. ...dire la verità è un atto rivoluzionario. George Borwell, la fattoria degli animali, 1945. Che cos'è questo paese? Un paese che sembra senza verità. Un paese che non ha bisogno di scrittori, che non ha bisogno di intellettuali, disperato, pieno di odio. E nella disperazione e nell'odio, propriamente spensierato, di una insensata, sciocca vitalità. Sempre. Tuttavia, sotto sotto, si scopre come nascosto, come clandestino, un paese serio, pensoso, preoccupato, spaventato, costretto a fare conti con quell'altro paese. Quello del potere, dei poteri, quello che non vuole la verità, che non ci vuole, che ci costringe a quella che Moravia chiama l'estraneità dolorosa. Leonardo Sciascia, lettera ad Anna Maria Ortese, 4 novembre 1978. Il mondo è un posto pericoloso, non a causa di quelli che compiono azioni malvace, ma per quelli che osservano senza dire nulla. Albert Einstein e noi siamo le voci nel deserto. Grazie. Grazie. Grazie.